Un ragazzo e una ragazza una sera si conoscono al pub, al bancone mentre stanno a beve, ha parlato una mezz'oretta del più e del meno, a un certo punto lui gli fa, ma sei fidanzata? Dice no, single da ben tre anni, dice allora non si può fare niente, ciao addio, dice perché? Pensa che voglia di rompere i coglioni che c'hai?